Bene ragazzi, ricominciamo con i CNK, allora... Eeeh... Dai, è l'inferno più assoluto, c'è... E' K, quindi troccata. Allora, cominciamo con gola di meteore, dai. Cominciamo con gola di meteore. Eeeh... Allora, qui dove sono le etere? Allora, uno è sulla scorciatoia, uno è sul coso lì in alto, e uno è mezzo alla neve, sì, dove devi perdere un sacco di tempo. Madonna, guarda, è proprio grandissimo, è proprio... Cioè, è difficile nitrocarta, ma non perché è difficile di suo, ma perché ci sono i comandi fatti col culo, veramente, alcune meccaniche fatte col culo. Cioè, è difficile in modo involontario nitrocarta, guardate. Perché non fosse per i comandi fatti col culo, e se alcune meccaniche le avessero studiate meglio, ecco, lì c'è la cima, ovviamente, guarda! Cioè, mi fa scivolare di sotto, ma non è possibile, sei una merda, però, eh. Sarebbe bello prendere tutte le etere dal primo giro, ma c'è uno del mio livello, con un gioco come nitrocarta, e non ce la fa proprio. Allora, eccola, vedo la... vedo la N lì, ecco, andiamo a avvicinarci qui. Vai, N... e poi c'è l'ultima che è... e poi c'è l'ultima che è... sul quel... sulla scorciatoia. Allora, andiamo qui. K, vai, perfetto. Sì, anche qui le lettere e questo è in ordine. C, N, K sono sempre in ordine. La prima è sempre la C, la seconda è sempre la N, e la terza è sempre la K, non come in crash CTR, dove erano un po'... Oh, aspetta, ora uso la maschera per guarda, eh. Per salire lì sopra, guarda, eh. Ma come? Non l'hai presa? Come, come, come? Madonna, però! E devi essere un precisino della mia minchia, però! Ma veramente? Dai, ma c'era andato lì! Eh no, non l'ha presa, perché dovevo esserci preciso, capito? Cioè, vaffanculo, però, e con le microletti e le tinte le prende, e le armi del rilascio le colpisce a metri e metri di... Cioè, ci va a schiantarsi contro a metri e metri di stanza, però mi raccomando, le cose utili, no, devi essere preciso, state box fatte col culo, mi sembra di essere tornato all'ira di Cortex, guardate, all'ira di Cortex! Mamma mia! Ehi! Ehi! Ecco, eh! Madonna, guarda, cosa cercava di fare con sto verdoso! E mi... Mi stava slittando da tutte le parti, meno dove c'era la CIA e il bastardo! Me la voleva far mancare anche a sto giro! No, veramente, io guarda, senza parole proprio! Sti CNK dei miei coglioni, davvero! Madonna santa, proprio dai! Meno ma... Eh, Coco Seconda, ti pareva ancora, guarda, pronti a rompere i coglioni nei CTR, nei gettoni, mi raccomando, vai! Il CNK è stato vinto, se non altro, vai! In tre soli minuti! Eh, ora non so se da tre minuti a qui ce la faremo a prendere quello di Rovina e di Bari, ma non credo proprio! Continuiamo, ok, adesso c'è la premiazione, oh, mamma mia, madonna, salutissima, guardate! che mi è capitato di perdere un C, un gettone CNK, nonostante avessi preso le lettere tutte per bene, ma c'era Coco di merda che mi aveva sorpassato all'ultimo secondo, madonna santa! No, veramente, 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 assurdo! Allora, bene, fantastico, hai vinto un gettone, sì, allora, eccoci qua, con... Allora, non vorrei che il disco smettesse di girare, per cui cosa faccio adesso? Premi start e... salva un attimo la partita, dai, sì, arriveremo a sei minuti, mi sa, nella pista, ma pazienza, 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 meglio salvare con cautela, perché guardate, mi sa che è il disco che fa qualche scherzetto, eh! L'ho fatto vedere a mio padre, ma dice che no, non mi sembra tanto malvagio, ok, forse è un la PS2, ma non lo so, perché ho fatto tante guide sulla PS2, non è mai successo a sta roba, allora, con Nitro Cardi, si è bloccato una volta durante il let's play, e una volta, off camera, quando ho avviato la console, prima di registrare, dicendo che il disco non riusciva a essere aggiunto, ma... Comunque ragazzi, farà così, allora, userò la regola dei tre strike, tipo, se si blocca per tre volte mentre registro, allora riscarico il gioco, su un cd nuovo, e siamo ovviamente al primo strike, se ne totalizza il più due, via cd vecchio, riscaricare il gioco su uno nuovo, e via, allora questa, oh, c'è Crunch stavolta, wow, allora, dunque, la lettera C, dove potrebbe, ah no, una lettera è qui, aspetta, c'è da saltare molto in alto, mi ricordo, eccola lì, ma cosa, cioè, vabbè, ora salta anche oltre, no, ma sei proprio una merda, però caro, eh, cioè, oltre la lettera, madonna, guarda, devi fare di tutto per non farmele prendere, sempre, eh, cioè, poi ho capito, cioè, qui ti colpiscono con una bomba, ti superano tutti, sei tu a colpire, eh, madonna, ma sei stronzo, però, dai, ma sei uno stronzo, e allora, ho capito, però, ma sei proprio una merdaccia, eh, dai, dammi a Kuaku, ti prego, a Kuaku, niente, oh, K, perfetto, vai a Kuaku, sì, ho preso la K, ragazzi, ho preso la K, non ci posso credere, però qui abbiamo entranza, vabbè, almeno con gli, eh, dai, però, ma è possibile che come li superi, hanno sempre il missile, ma non è possibile, però, madonna, sempre il missile pronto nel magazzino da tirarti contro, eh, sì, ok, e la N poi è da quella parte, allora, dai, qui però non ho alcuna speranza di arrivare prima, dai, ho colpito, metta, 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 N, vai, ora, resta sola, ecco, vai, fatti un giretto, nel burro, chi è che lascia, ah già, sono stato io, oh, madonna, ma vedete che ce n'è sempre uno davanti, porca troia, non ti fa cadere il primo posto per niente, ma da ora, questo non lo tengo, guarda, se mi supera, io lo lancio subito contro, e continuiamo a fare le spinte, come se non ci fosse un domani, ragazzi, come se non ci fosse un cazzo di domani, perché, sono sempre due passi dietro, eh, mamma mia, allora, proviamo poi a far cadere il masso, proviamo a far cadere il masso, eh, perché magari qualcuno, così forse, verrà schiacciato, lo spero vivamente, dal masso, eh, dai, 40 spinte, su, sto tenendo la velocità accelerata, per tutta la gara, e ancora, oh, mi è dietro, eh, BASTARDO, come ti sei permesso, di farmi un simile affronto, madonna, dai, eh, che, no, non è possibile, cioè, ha funzionato male il salto, è dovuto sbattere contro, ma siamo veramente seri, ma siamo seri? Grande, l'ho comunque vinto, ma è un bastardo, guarda, cioè, ma che cazzo, cioè, mi salta super in alto, non dovrebbe neanche esistere, in primo luogo, che se salti troppo in alto, vai a sbattere contro il cornicione, eh, non dovrebbe esistere, in primo luogo, una cosa così, madonna santa, oh, mai una vittoria tranquilla, deve essere sempre un'ansia, fino all'ultimo secondo, eh, porca di quella troia, se non deve essere sempre così, la madonna, la madonnina, allora, dai, bene, abbiamo fatto anche il cnk di gola di meteore, questa era davvero difficile, dato che siamo otto minuti, non ce la facciamo ora a fare il cnk di guida acquatica, siccome non voglio terminare l'episodio con fail su fail, ipotetici, terminiamo qui e facciamo il cnk di guida acquatica nella prossima, allora, ecco qui guida acquatica, ora salviamo la partita un'altra volta, eh, stupido, non ci deve, no, guardate i comandi sono veramente, vabbè, qui ora sono sul ghiaccio, però, c'è qualcosa di assurdo, eh, allora, salviamo la partita, ma poi il menù, guardate, il menù parte sempre da Terranea, non è come magari il cnk che parte dal mondo in cui ci sei tu, no, parte sempre da Terranea, no, non lo so ora, non mi ricordo, il cnk, forse anche il cnk partiva sempre dal primo mondo, alle spiagge, alla polia, almeno, allora, sovrascriviamo i dati, bene ragazzi, è stata un'avventura di urli e schiaffi e scleri, e altro, ma ce l'abbiamo fatta, noi ci rivediamo alla prossima, con guida acquatica, il gettone cnk, ciao!